Allora bambini, cos'è che vi piace di questa scuola? È divertente e ci sono tante materie belle. Facciamo tante gite! Le maestre sono gentili! Venite a trovarci a Scuola Aperta. Insegnanti e famiglie vi aspettano per un piacevole momento di conoscenza e confronto. La scuola media del Vendramini è un bel posto in cui studiare e crescere. Qui, con il progetto Eureka, approfondiamo soprattutto la lingua inglese e la matematica e questo ci servirà per le scelte future. Scegliere la nostra scuola significa dare fiducia ad un gruppo docenti consolidato che propone un progetto formativo in cui crede profondamente. A Scuola Aperta potrà incontrare anche noi insegnanti. Siamo nel laboratorio di chimica del liceo delle scienze biologiche. In questo liceo le scienze hanno un ruolo primario e i laboratori sono il cuore pulsante della nostra scuola. A Scuola Aperta apriremo i laboratori di chimica e fisica oltre alle aule speciali di lingue, informatica, ecologia e anatomia. Scegliere la nostra scuola significa dare fiducia a un gruppo di docenti consolidato che propone un progetto formativo in cui crede profondamente. A Scuola Aperta potrai conoscere anche noi. A Scuola Aperta potrai conoscere anche noi.